Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Sono due i casi di legionella. Il batterio è stato riscontrato in un plesso scolastico e in uno stadio, entrambi chiusi con le relative ordinanze di due sindaci. A seguito dei controlli fatti nella scuola di cesa è venuto fuori che c'erano delle tracce di legionella, quindi non ho potuto fare a meno ovviamente di chiudere la scuola. È stata la sindaca di Marciano della Chiana, Maria De Palma, a firmare l'ordinanza che decreta la chiusura temporanea del plesso scolastico che si trova nella fazione di cesa perché da un controllo ordinario sulle tubature sono state rilevate tracce di legionella. Un'amministrazione, un sindaco devono prendere delle decisioni che sono prima di tutto delle decisioni che riguardano i bambini in questo caso e quindi la prima cosa è la salute. La salute viene prima di tutto. Io metto sempre al primo posto la salute dei miei cittadini, quindi quello che ho fatto è stato chiudere immediatamente la scuola, sapendo, essendo consapevole che avrei creato dei disagi ai genitori, ma essendo io stessa genitore, credo che possano capire che la prima cosa da fare è mettere in sicurezza i ragazzi. La chiusura si è resa necessaria per la scuola dell'infanzia Nido Verde e per la scuola primaria Marconi fino al 4 ottobre compreso, chiusure che consentiranno le operazioni di sanificazione. Ho acquisito tutte le informazioni necessarie per cercare di riaprire la scuola il prima possibile, quindi sto lavorando notte e giorno per cercare di trovare una soluzione e cercare di riaprire le due scuole, sia quella dell'infanzia che la scuola primaria, prima di venerdì. Conto di poterlo fare con la collaborazione ovviamente della scuola, stiamo cercando soluzioni e conto di poterlo fare, di poter aprire il prima possibile. Nessun caso di legionellosi è stato riscontrato tra i bambini, anche gli altri plessi del comune saranno comunque sottoposti ad un controllo nei prossimi giorni. Un altro caso si è verificato allo stadio di Faella nel comune di Castelfranco Pian di Scò. Dalle analisi è emerso che il batterio della legionella era presente e per questo il sindaco Michele Rossi ha emesso un'ordinanza di chiusura. Alla società sportiva il compito di mettere in atto le procedure per la sanificazione. Con i successivi campionamenti, se i valori di presenza del batterio saranno tornati nella norma, la struttura potrà riaprire. Il video di quando saltava sulle auto in viale Michelangelo, poi era caduto, lo ricorderete, era diventato virale. E' protagonista di questa bizzarra vicenda, un tunisino di 34 anni, non residente ad Arezzo e nuovo nel territorio. Dopo la scorribanda era stato fermato dalla polizia municipale, prima trattenuto in camera di sicurezza, poi trasportato in questura per gli accertamenti del caso, qui preso in carico dagli agenti della polizia di Stato che poi si sono occupati della sua espulsione. Torniamo a parlare dell'antenna della telefonia in Via Sicilia. Il comitato torna a manifestare. Noi siamo qui per lottare per il diritto ad avere una zona libera da questo mostro. Sono nuovamente scesi strada i residenti di Via Sicilia per ribadire un fermo no all'installazione dell'antenna della discordia. Gli operai, dopo il montaggio del palo nei mesi scorsi, sono tornati in questi giorni a lavorare e la preoccupazione adesso è che l'antenna venga presto accesa. Da qui così, di nuovo, la richiesta di un intervento da parte del comune di Arezzo. Non vogliamo assolutamente che questi lavori vengano portati a termine perché crediamo di avere ragione, di essere nel giusto e chiediamo per questi motivi al comune che ci comunichi quanto prima l'esito del procedimento di autotutela perché riteniamo che il provvedimento autorizzatorio in Manaline Witt sia un provvedimento viziato sotto molteplici profili. La richiesta dunque è quella di sospendere tutto fino a che almeno non sia terminato il procedimento di autotutela che deve stabilire se l'autorizzazione per quell'antenna è corretta oppure no. Questo in primis e poi subito o quantomeno nell'arco di pochissimi giorni l'esito del procedimento di autotutela che è aperto da maggio. Cioè il comune prenda per questa questione una decisione chiara e precisa nell'interesse dei suoi cittadini. Si svolgeranno domenica prossima le operazioni di voto per eleggere il nuovo consiglio provinciale di Arezzo. Si tratta di elezioni cosiddette di secondo livello, quindi il corpo elettorale è formato da sindaci e consiglieri. Le urne si apriranno alle 8 e si chiuderanno alle 20 nell'unico seggio, ovvero quello allestito nella sede della provincia in via Spallanzani. Alle forti riserve sull'efficacia dei provvedimenti si aggiunge la mancata previsione di un periodo transitorio che avrebbe permesso alle aziende di adeguarsi con tranquillità. A prendere posizione sulla cosiddetta patente appunti per il settore edilizio è CNA Arezzo. La mancanza di chiarezza, scrive sulle tempistiche, nel portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro rischia di compromettere la sostenibilità del settore senza dimenticare che l'assenza di un periodo transitorio adeguato rischia di favorire dinamiche speculative con soggetti pronti a sfruttare la fase di incertezza delle imprese. Parliamo di emergenza a casa ma soprattutto di edilizia popolare. Ad Arezzo si è provato a tracciare il futuro di questo importante argomento in un convegno organizzato da Arezzo Casa in occasione dei suoi vent'anni. Ci sembrava giusto poterci confrontare sia con le istituzioni ma anche con chi scienziati da tutto il paese conosce bene l'argomento e poteva portare un contributo importante per una riflessione. Il futuro dell'edilizia residenziale pubblica è stato il tema al centro della giornata di studio organizzata da Arezzo Casa, società che gestisce 3.200 appartamenti per conto di 37 comuni proprietari. Un appuntamento che ha rappresentato il cuore dei festeggiamenti di vent'anni di Arezzo Casa ma che è stato anche l'occasione per approfondire il tema del diritto alla casa. La realtà è questa, il sistema non regge più, non è possibile pensare di poterlo sostenere con i soli proventi degli affitti. Abbiamo bisogno di una riforma strutturale, abbiamo bisogno di una riforma economica e soprattutto abbiamo bisogno di una riforma normativa perché non si può continuare a fare case popolari come si faceva 50 anni fa. Edilizia residenziale in Italia, le sfide di oggi e i progetti futuri, il tema affrontato dal presidente di FederCasa. Se dobbiamo fare un confronto è che noi siamo un malato in cura e abbiamo bisogno però di una certa assistenza quindi dobbiamo puntare su una rivisitazione complessiva della normativa perché come è stato evidenziato anche dallo studio di Nonis ma noi non abbiamo una prospettiva di mantenimento e di crescita e soprattutto di bilancio e quindi di sostenibilità di bilancio. Quindi il canale che FederCasa sta cercando di sfruttare è sicuramente l'Europa, l'istituzione del commissario europeo per la casa può essere un primo passo per riuscire a portare quelle risorse necessarie per le nostre aziende. Ad oggi il patrimonio di edilizia residenziale pubblica conta 850.000 alloggi distribuiti su tutto il territorio nazionale gestiti da 84 aziende pubbliche, 2 milioni invece gli inquilini. Le liste d'attesa che catturano solo una parte del bisogno abitativo sono oggi ingenti tutti i territori ma appunto ribadisco che sono solo uno degli indicatori del bisogno abitativo che come sappiamo e leggiamo sui giornali in realtà si presenta anche tra chi non riesce a verbalizzare e formulare una domanda per accedere alla casa pubblica. L'edilizia residenziale sociale potrebbe essere una risposta a quest'ultima problematica. Può essere questa una bella opportunità per dare questa risposta alla domanda debole della popolazione ma non ci sono le condizioni di sostenibilità affinché il privato da solo possa farsi carico di questo tipo di edilizia. Quindi è necessario un concorso privato pubblico, un partenariato pubblico privato perché da una parte il privato può rinunciare a un po' di profittabilità dall'altra parte il pubblico però deve riuscire a garantire degli oneri e dell'alleggerimento dei costi che vengono a gravare poi sul prezzo finale o sul canone finale. E proprio in questa settimana di eventi organizzati appunto da Arezzo Casa per i 20 anni della S.P.A. che gestisce il patrimonio ERP dei comuni dell'Aretino sono stati inaugurati i murales realizzati sulle case popolari di via Montefeltro a Sansepolcro un'opera d'arte firmata dall'artista internazionale Ale Senso nell'ambito proprio del festival AC20. Le opere realizzate nelle quattro torrette degli ascensori esterni degli edifici di edilizia residenziale pubblica è stata ispirata alla storia del capitano dell'esercito inglese Anthony Clark che nel 44 salvò Sansepolcro dai bombardamenti per proteggere la celebre resurrezione di Piero della Francesca. Le leboline tornano in piazza non ad Arezzo a Firenze piazze che hanno attraversato il secolo scorso per difendere il loro posto di lavoro ma in quella di Foiano per riflettere sulla storia della lebole sulle vite dedicate a questa fabbrica. L'occasione è la festa di liberità, il mensile nazionale dello SPI CGL appuntamento domani alle 15.30 in piazza Cavour a Foiano della Chiana. Rimaniamo nel comune della Val di Chiana perché domenica ci sarà l'atteso finissage per la collettiva Le Vite. Giorgio Vasari Dalla pittura alla scultura fino alla ceramica oltre 100 artisti dall'Italia e dal mondo per la collettiva Le Vite Giorgio Vasari, ospitata a Foiano della Chiana nell'Arettino per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. L'evento inaugurato nell'ambito dell'apertura della settimana foianese è organizzato dall'Associazione Culturale Arteco con il patrocinio e la collaborazione del comune di Foiano della Chiana e della Proloco. Quest'anno siamo riusciti anche a restaurare un affresco che è stato attribuito proprio alla scuola del Vasari. Tre le diverse sedie espositive, la Galleria Comunale Furio del Furia, la Carbonaia e il Museo della Fraternita di Santa Maria. Domenica 29 settembre alle 19 il finissage che si terrà a Pozzo della Chiana nel Tempio di Santo Stefano alla Vittoria, l'edificio è retto proprio su progetto di Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati, il ricordo della battaglia di Scannagallo del 2 agosto 1554. Il finissage abbiamo deciso di farlo proprio nel Tempietto di Pozzo della Chiana in modo che la mattina gli artisti verranno a ritirare le loro opere dove sono predisposte e la sera alle 5 faremo il finissage proprio nel Tempietto di Giorgio Vasari e il Minioo. Verranno poi scambiate delle opere con il Comune e invitiamo i cittadini anche a partecipare a questa manifestazione interessante. Aperture straordinarie anche ad Arezzo in occasione delle giornate europee del patrimonio al Museo archeologico nazionale dell'Anfiteatro Romano. Domani un'apertura dalle 20 alle 23 con un biglietto simbolico 1 euro. Alle 21 è in programma l'Eco di Omero, percorso nell'Iliade fra poesia e archeologia. Domenica 29 ancora un'apertura straordinaria dalle 14.30 alle 18.30 con Arrezzium e il suo anfiteatro. Ci spostiamo adesso invece in Val di Chiana. Si aprono domani a Camucia le porte dello spazio artistico in memoria dell'artista Francesco Sandrelli. Scomparso, lo ricorderete, nel marzo del 2023 dopo le ustioni riportate nel rogo della sua automobile lungo il grande raccordo anulare di Roma. I locali si trovano in via della Repubblica al Civico 5 di Camucia, per tanto tempo sede del centro giovanile ZAC e da anni chiusi. Sono stati trasformati proprio per volontà della famiglia in sede dell'Associazione Culturale Francesco Sandrelli, nata nel luglio scorso. Ora sono appunto adibiti a spazio espositivo con una scelta delle opere dell'artista che saranno ruotate poi nel tempo. E adesso invece andiamo fuori regione, anche se sono insomma a noi molto vicini. Parliamo dell'Umbria che ha inaugurato proprio ieri, c'è stato il taglio del nastro ufficiale, la venticinquesima edizione della manifestazione I primi d'Italia. A Foligno anche marchi a retini come quello di Menchetti. Presidente, insomma il primo piatto dice Italia e ovviamente è un simbolo della nostra italianità. È un simbolo, il primo piatto è vero. Sono stato a una convenzione, adesso si parla di spaghetti perché volevo capire, gli spaghetti se venivano dalla Cina, dalla Mongolia, ma ancora non l'ho capito. Però ho capito che lo spaghetto al pomodoro è la pasta proprio vera, vera dell'italianità, dell'italianità. E noi lo facciamo lo spaghetto, ma non facciamo solo lo spaghetto, facciamo tante altre cose. Facciamo 11, 7 regionali. C'abbiamo la regione Lombardia, c'abbiamo la Basilicata, c'abbiamo la Sicilia, c'abbiamo tutti, 11 regioni. 25 anni, venticinquesima edizione. Per raggiungere questa venticinquesima edizione lo sforzo è stato tanto, il festival è cresciuto, che mi sento di dire perché sono andato a vedere, sono andato a ricercare, sono andato a Gragnano, sono andato a vedere, sono andato a Vinci, sono andato da tante parti per vedere quello che si poteva trovare. E mi sono reso conto che questo festival, Foligno, è diventato la capitale mondiale dei primi piatti. Perché non c'è un festival così, prima dicevo in Italia, in Europa, no, non c'è, non c'è, non esiste un festival così. Un festival che ha 11 villaggi del gusto, tutti attrezzati, e abbiamo 11 regioni con 11 ricette diverse. Una cosa così? Devo dire che i primi d'Italia è diventato un evento internazionale, la regione lo sostiene convintamente, è importantissima per la città di Foligno, che tra l'altro, brava, grazie anche all'amministrazione, che mette a disposizione la città, grazie anche alla Quintana, a tutte le taverne che possono svolgere un ruolo importante. E devo dire, è veramente il caso di dirlo, i primi d'Italia sono uno degli eventi straordinari di questa regione. Aldo Amoni non ha definite nozze d'argento, ma nozze di pasta, quindi questa è l'accezione che daremo a questo venticinquesimo. E sicuramente i primi d'Italia non sono solo una manifestazione che riguarda la buona cucina italiana, ma sono qualcosa che sta sorgendo a livello nazionale e anche internazionale, con tutto quello che si porta dietro. Per noi è un grande onore averla a Foligno. Assessori, dicevamo con il sindaco, insomma, il primo piatto dice Italia, davvero una bandiera del nostro paese, che va però difesa e va anche forse raccontata bene ai nostri turisti. Assolutamente sì, in questi tre giorni a Foligno noi promuoviamo le eccellenze della nostra Italia, anche quella che è la nostra tipicità primaria, che sono appunto i primi piatti e lo facciamo in un modo eccellente. Allora, mano alla forchetta. Mano alla forchetta, forza, andiamo, 25, 26, 29 settembre e quest'anno, siccome la 25esima edizione che c'è, allora chiudiamo un po' con il botto. Ho preso una terrazza del comune e alle 11.30-11.40 facciamo i fuochi d'artificio. Questa è la serata finale di domenica 29. Venite a Foligno dal 26 al 29, già siamo partiti alla grande, vedete voi, guarda, gente c'è, ed è giovedì, figurate voi sabato e domenica. Domenica prossima dalle 9 alle 18.30 la prima edizione del mercatino dei ragazzi del Calcit a Castiglion-Fibocchi presso il polo scolastico Ugo Nofri. In concomitanza le donne del laboratorio Maglia della Proloco, in collaborazione con il gruppo Mani e Cuore per il Calcit, stenderanno 500 coperte che renderanno così le gradinate coloratissime. Il ricavato sarà destinato al servizio scudo, cure domiciliari per i malati oncologici. Ed infine parliamo di sport perché la città di Arezzo sarà presto sede del campionato italiano di kickboxing. La manifestazione sarà inserita all'interno della 29esima edizione del Gran Galà dello Sport da combattimento Le Stelle del Ring, organizzata dal team Iachini, fissata per sabato 9 e domenica 10 novembre al Palasport Estra Mario Dagata. Circa 400 gli atleti e le atleti provienti da ogni zona d'Italia che diventeranno protagonisti di queste due giornate all'insegna proprio dell'adrenalina e dello spettacolo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie.